Allora, nella Mixology continua il trend ovviamente della miscelazione di rum chiari con un basso invecchiamento, ma un forte trend nell'ultimo periodo è anche quello di utilizzare gli Spiced Rum, che sono rum che si sposano molto bene in cocktail classici, come una pignacolata ad esempio. Noi qua abbiamo avuto un'estate con un ottimo successo di un drink di Don Papa, il Darkest Don, con ginger beer e lime, succo di lime. Questa freschezza facilita la bevuta del rum, utilizzo anche di tonica, tonica con rum, sembra che la tonica sia per tutto, effettivamente è così. Assolutamente un old fashion fatto con il rum, tira fuori al meglio le sue caratteristiche. Il rum trova largo uso, non solo bianco devo dire, iqiri, che comunque è un cocktail molto che pian pianino comincia ad essere molto richiesto.